Il futuro è tanto connessione quanto sconnessione. Esiste un luogo nel tempo ai margini della memoria che forma una ripida spiaggia corollata in alto da robusti pensieri. In questo luogo mi sono recato. Sono i calanchi di Basilicata, calanchi che si trovano all'interno del territorio di Pisticci e sono assolutamente unplugged. Unplugged sta per disconnesso, staccato, scollegato, in un certo senso inarrivabile, impervio. I calanchi sono esattamente un luogo unplugged, una parola in controtendenza. Lasciatevi affascinare ogni tanto dalle controtendenze, cioè la connessione è di certo quello a cui tendiamo oggi a tutti gli effetti e in ogni espressione, ma ogni tendenza potente sottintende una controtendenza. E unplugged è una controtendenza importante per questa esperienza che vado a raccontarvi. I calanchi sono un deserto d'argilla. Sono un luogo poco ospitale per l'essere umano, non collegato da strade ben realizzate, non servito da corrente elettrica, da acqua. E in parte sono zone agricole, in parte sono zone assolutamente desertiche e abbandonate, a volte luogo di pascolo. Calanchi mi regalano una esperienza particolare, in questo contatto con questa materia prima straordinaria che è l'argilla. Argilla. Il suono stesso di questa parola mi ha portato a una piccola vertigine. Sono luoghi che conosco da quando sono bambino, sono luoghi da me usati per sentirmi anche lontano da casa, pur rimanendo sul posto, in un certo senso. E infatti, chi visita i calanchi sente immediatamente di essere, molti dicono, è un paesaggio lunare. Io dico che è extraterrestre, nel senso che intendiamo anche extralarge, molto largo, molto terrestre. La Terra è anche questo. Forse è simile alla Luna, o forse è come prima della Luna. Prima di essere Luna è Terra. E questa argilla ci ha comunicato una sete. Le forme di questa pasta meravigliosa ci fanno sentire che la Terra ha sete. La Terra si crepa, si corruga, diventa come un pachiderma, una pelle di elefante, bellissimo toccare, e sentire come, sgretolando, si crea un suono di pioggia. Proprio quell'acqua che manca in quel momento lì. E ho pensato di dover fare qualcosa per rendere fertile a questo deserto. Di certo la mano dell'uomo attraverso l'agricoltura ha fatto una parte. Perché non innaffiare d'arte questi luoghi? E' un luogo, però, sconnesso. Abbiamo pensato di portarci il teatro. Ci siamo impelagati in una idea che al solo inizio conteneva delle sfide, delle soluzioni, diciamo, non immediate. E quindi decidendo di portare il teatro in questi luoghi ci troviamo anche di fronte a una serie di problematiche. Dovremmo portare la corrente, dovremmo portare strutture, dovremmo portare sedute, dovremmo portare spalti, dovremmo portare amplificazione acustica. E' tutto molto difficile. Le strade non sono esattamente praticabili. Dovremmo anche portare il pubblico, tutto sommato. E in qualche modo dovrebbe arrivare per fruire dell'opera d'arte. Ci costringiamo ad un gesto artistico estremo. Decidiamo di non utilizzare nessuna connessione. Cioè, non utilizziamo la corrente elettrica per amplificare, per illuminare, non utilizziamo gruppi elettrogeni, non utilizziamo grandi fari, non utilizziamo strumenti che hanno bisogno di un'amplificazione. facciamo in modo da negarci tutte queste possibilità, che sono una soluzione, ma diventano un altro problema. In realtà ci viene incontro una visione comune nell'incontro con il regista Matteo Tarasco, che visita questi luoghi, si innamora, e propongo a lui di essere, di gestire una residenza artistica per sette attrici, una con nazionale. Rispondono in duecento le attrici. Sosteniamo come l'evento? Lo sosteniamo con il finanziamento delle persone, con il singolo, che in qualche modo sostiene l'evento acquistando una sottoscrizione. Mettiamo in scena Le Baccanti, Deolibide, un testo dalla forza indescrivibile che si sposa in una maniera mistica con gli spazi. Questo è il risultato. Baccanti, illuminato solo dalla luce del fuoco e riscaldato dai cuori di cinquecento persone che in uno degli spettacoli è stato presente riempiendo le comodissime sedute in paglia di cui era costituita la platea. E succede questa cosa straordinaria. In realtà il calanco sembra molto ospitale, raccontato in questo modo, ma la madre terra si fa matrigni a volte e non ci fa mancare degli acquazzoni terribili. 180 millimetri in 12 ore, cioè oltre il 50% di quello che cade in un anno da queste parti. Nei calanchi, dove una goccia d'acqua diventa una fiumana di fango. Quindi pensate una pioggia indescrivibile che cosa ha potuto creare tra le varie difficoltà che ha creato una grande voglia di sfidare ulteriormente la natura del calanco. Lui forse non ci vuole, forse ci vuole solo battezzare. Se questo è il risultato, lo prendiamo con un battesimo, quello di Dioniso e quello del calanco. Abbiamo anche coinvolto altri artisti all'interno di questo percorso, pensando di lavorare sempre sulla materia prima argilla. E quindi abbiamo manipolato realmente una parte di calanco dalle mani sapienti di Anna Maria Pagliei, che ha proposto una sua versione della baccante. È un progetto che poi è andato anche avanti nel tempo e che incontrando il fuoco ha prodotto nelle edizioni successive di Teatro dei Calanchi. Questo è il nome del parto del calanco. Questa iniziativa delle donne d'argilla che venivano illuminate dalla luce del fuoco. Il fuoco è un grande fratello dell'argilla, perché mentre lei è molto fragile ed è modesta per certi aspetti, prima di incontrare il fuoco, una volta accaduto questo magico incontro, l'argilla si fa tosta, l'argilla si fa resistente, diventa ceramica. E la manipolazione dell'argilla morbida di questa pasta ci dà la possibilità di declinare la materia prima in un altro modo e ci consente anche di risolvere un altro problema. Perché eravamo lì nel calanco di fronte a 500 persone con due ettari di teatro praticamente le attrici che non erano in proscenio come siamo qui a distanza ravvicinata ma erano a diverse decine di metri disposte su questo ripido calanco e avevamo bisogno di amplificare la voce delle attrici. Allora abbiamo immaginato di trovare una soluzione nell'argilla stessa ci viene in soccorso un cassetto chiuso forse dieci anni prima dentro il quale c'era un esperimento che ho realizzato proprio con le mani di questo artigiano che si chiama Felterino Norati collega di Anna Maria Paglieri e abbiamo realizzato un vaso sonoro in una visita al museo degli strumenti musicali di Berlino ci imbattiamo in una mostra specifica degli strumenti musicali in ceramica riconosciamo questo oggetto ci incuriosisce si ritorna nella nostra terra e lo si fa lo si manipola lo si prova lo si mette nel cassetto aperto questo cassetto questo vaso ci regala una soluzione sono io il megafono sono io lo strumento musicale che le attrici possono maneggiare per invocare Dioniso nel del dramma delle baccanti e così diventa strumento musicale l'argilla la ceramica diventa sonora questa è la forma del nostro megafon non è una vera e propria invenzione è una scoperta ma in epoca di conoscenza liquida tutto si scopre e poco si inventa è uno strumento che ha origini africane ha un'altra forma si chiama Udu con due U e una di centrale e la sua diciamo scoperta nell'occidente è data da un archeologo statunitense Frank Giorgini probabilmente di origine anche italiana che porta questo reperto ritrovato in Nigeria dalle nostre parti lo amplia lo studia noi ricombiniamo la forma di questo oggetto di questo strumento pensando di regalargli un'impugnatura e una variabilità nel suono regalandogli due fori poi vi farò vedere come funziona due fori attraverso i quali stimolare l'aria che c'è all'interno e la superficie dello strumento udu è diciamo l'emulazione sonora del nome originale di questo strumento con queste doppie O con una di centrale che riproducono in sostanza lo stesso tipo di suono rimane invariata la parola tant'è che udu significa vaso e significa anche pace cioè contiene dei messaggi assolutamente positivi lo costruiamo in tre versioni ridisegnato una grossa una media una piccola anche bianco filtriamo le nostre argile e ne facciamo uscire fuori una pasta ancora più nobile che diventa che regala nuove sfumature al nostro strumento accade che io mi pongo una domanda dico ma sono un teatrante un amante della cultura classica antica e mi pongo questa domanda è possibile che nella nostra cultura al di qua del Mediterraneo e con tutta la tecnologia legata alla ceramica questo strumento non è giunto da queste parti allora mi diverto a creare dei fake essenzialmente sono finti è un graffito potete vedere da qualche parte degli udu contenuti nelle mani dei nostri antichissimi progenitori potete vederlo anche nelle mani di un famoso dio egizio e potete trovarlo addirittura nelle mani delle palestrite nei mosaici di piazza Armerina e qualche archeologo c'è cascato la disattenzione non si legge magari un testo o un post e di fronte a una di queste mi dice ma non l'avevo mai visto ma non me ne ero mai accorto di questa cosa ma che cosa fantastico lì a convincerlo che era una bugia e non è stato semplice convincere che fosse un grande gioco teatro dei calanchi forte di questa ceramica e di questa argilla quindi di questa argilla che si fa più dura e più forte riesce a sostenere questa iniziativa continua nel tempo ed aumenta la partecipazione di questi sottoscrittori delle persone che liberamente scelgono di sostenere dando un gettone l'iniziativa artistica e tutto il progetto si compone di altre nuove esperienze altri inserti teatrali nuovi coinvolgimenti per nuove sette attrici l'anno il secondo anno di teatro dei calanchi va in scena Medea Medea al plurale Medea e il dramma antico con un composite autorale sempre diretto dal regista Matteo Tarasco sempre sette voci di donna per lo stesso personaggio è sempre più suggestivo lavorare con il calanco e lavorare sul calanco e fare in modo che il calanco ti vinca essere attore sul calanco è una esperienza indimenticabile e potentissima gli attori di teatro lab che è un piccolo laboratorio fondato qualche tempo fa a Pisticcia all'interno di un centro culturale che si chiama Circus che ancora vive centro di iniziativa ricerca per la cultura e lo spettacolo forna o meglio coltiva nell'intimo questa passione per l'arte scenica e forma in mezzo a Basilicata a diverse diverse persone nell'arte scenica Teatro Lab diventa gli allievi di Teatro Lab fanno la loro prima esperienza sulla scena cruda e poco ospitale dei calanchi si recita a piedi nudi e non è una cosa semplice e si recita questa volta anche di giorno quindi utilizzando un fuoco che è un po' più lontano da quello che accendevamo direttamente ai piedi delle attrici che è il sole l'anno scorso la terza edizione di Teatro Lab va in scena Odissea tutta di giorno e solamente gestita dagli allievi del Teatro Lab un laboratorio che esce fuori dai confini del suo centro culturale e tocca cinque centri in Basilicata la storia delle storie possiamo dire l'Odissea che prende vita in gran parte della storia viene raccontata nel mare o a che fare con il mare ma prende vita in questo deserto dei Calanchi che però contiene ancora il sapore del mare perché se scaviamo poco poco tra le rughe di quella argilla troveremo dei reperti di qualche milione di anni fa dei fossili che ci raccontano di come questo è stato anche un fondale marino di come forse quella nave di Ulisse abbia trovato lì a Prodo oggi pensando di rievocare una storia che è immortale che contiene ancora il suo valore voglio chiudere con questa immagine che ha ispirato tutto il progetto questa è una mammella è una mammella d'argilla si chiamano così i calanchi assumono queste forme e ti danno il sapore della mamma un calanco che crea che genera argilla madre argilla matrigna e l'argilla a volte si fa anche musica dic di di Grazie.